Ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Tra la mobilità e il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. In FIPILI per traffico coda in uscita la Strassigna per chi proviene da Firenze. Si vengono i disagi inoltre per il cantiere aperto tra Montelupo e la Strassigna nei due sensi di marcia per interventi di miglioramento della sicurezza. Gli stessi lavori, l'uscita di Ginestra a Fiorentina provenendo dal Livorno è chiusa al traffico. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze in via Benedetto Fortini, in vigore un restringimento di carreggiata all'altezza del civico 37 per caduto muro di recinzione di proprietà privata, richiesto intervento delle forze dell'ordine. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!